Benvenuti in un nuovo video Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento su temi di politica, economia, attualità è la prima puntata dopo una pausa estiva che riprende dal centro video di Palazzo Cesaroni oggi ospiti nel nostro studio come sempre due consiglieri regionali per il Partito Democratico Carla Casciari e poi abbiamo il consigliere Sergio De Vincenzi eletto con il gruppo Ricci Presidente come sempre il dialogo, il dibattito maggioranza-opposizione dicevo la prima trasmissione dopo una pausa quest'anno non c'è stata solo una pausa per le vacanze ma c'è stato anche un evento che ha riguardato tutto il centro Italia e in maniera significativa anche la nostra regione parlo del terremoto anche perché cito subito la fonte che è il consigliere Carlo Lagasciari ho appena ricevuto gli ultimi dati sull'emergenza sismica che sono ovviamente particolarmente pesanti per quanto riguarda le altre regioni con 294 vittime totali accertate finora non ce ne sono in Umbria ma in Umbria ci sono però 1115 persone che fanno parte della cosiddetta popolazione assistita quindi più di mille persone hanno avuto bisogno di un intervento in maniera più o meno grave a seconda della loro collocazione perché poi abbiamo anche la distinta per località come sapete Castelluccio di Norcia è stato particolarmente colpito Norcia ci sono più di 500 persone assistite ma ce ne sono a 160 Cerreto di Spoleto e grossi numeri vedo anche a Sellano insomma è vero che il terremoto non è il terremoto di Perugia come battono ancora fino a 24 ore fa le agenzie internazionali non è di Perugia e Macerata quelle sono le province dove è avvenuto e purtroppo c'è un danno subito al turismo a cui bisognerà riparare però le conseguenze sono importanti anche per la nostra popolazione e quindi io apro con questa domanda di attualità che rivolgo a entrambi i consiglieri cominciando da Carla Casciari che situazione abbiamo qual è l'intervento delle istituzioni perché tutta Italia chiaramente sta coinvolgendo aiuti nella zona non solo delle Marche ma anche dell'Umbria quali sono ecco proprio la ripresa dell'attività politica per forza ha a che fare anche con questo Carla? Sì grazie intanto bentornati purtroppo dobbiamo aprire con questa ennesima riflessione che appunto l'Umbria ha tremato ancora insieme per fortuna devo dire appunto vittime non ce ne sono state ma è stata un'ennesima prova per l'Umbria proprio nel momento nel quale l'Assemblea legislativa stava per ricevere la legge di chiusura per i lavori del terremoto del 97 dovremo riaprire di nuovo un percorso sulle azioni da intraprendere in questa nuova fase e naturalmente il pensiero mio e credo di tutta l'Assemblea legislativa va alle vittime numerosissime ancora una volta come diciamo in una zona che per ragioni orografiche per fortuna diciamo non ha una densità così elevata non è il terremoto dell'Aquila non è il terremoto dell'Emilia ma è un terremoto che ha coinvolto quattro regioni e su questo appunto le azioni anche molto caute che il governo sta facendo proprio per evitare che come delle regioni vadano in ciascuna è stata colpita in una parte più o meno considerevole in termini proprio di danni e di perdita di vite ma appunto il governo si sta muovendo con un coordinamento centrale che si chiama Dicomac e che permetterà alle protezioni civili di lavorare in sinergia e quindi anche ai presidenti delle assemblee legislative ma anche delle giunte regionali di trovarsi su un tavolo comune col ministero e con ora per fortuna il commissario appunto straordinario Errani che assolverà la fase più delicata che è quella dell'avvio delle ricostruzioni della valutazione dei danni effettivi l'Umbria come diceva lei ha 1100 persone sono state attivate anche diverse tendopoli appunto il passaggio successivo è quello delle casette di legno perché sono tutte zone impervie devo dire anche che è uscito anche sulla stampa di ieri che ora stanno facendo i sopralluoghi si è cominciato si è cominciato dalle lesioni meno importanti quindi molto probabilmente queste persone un po' diciamo spaventate anche dalla lunga sequenza di scosse che si sono susseguite rientreranno nelle abitazioni piano piano che verranno ultimati i controlli quindi è stata una situazione credo che è stata tamponata nell'immediato da un sistema che è quello della protezione civile regionale ma anche nazionale che nella fase dell'emergenza ha funzionato ora si deve mettere in moto invece la macchina che supera l'emergenza quella un po' più diciamo complessa ma credo che le basi ci siano già ho omesso volutamente di autoincensare l'istituzione regionale però va sottolineato in sede di discorso generale che comunque le ricostruzioni precedenti in Umbria hanno dato un risultato cioè Norcia ha avuto danni seri Castelluccio è in parte crollato però se andiamo a vedere casa per casa abbiamo fatto un po' questo studio sono crollate le case non ristrutturate quindi chi non aveva investito in maniera preventiva ha avuto dei danni e li ha causati anche a chi invece aveva investito aveva ristrutturato ma confinando con un'abitazione non ristrutturata si è trovato un pezzo di tetto venire giù situazione molto complessa lei consigliere De Vincenzi ha fatto anche una critica il che lo trova abbastanza impopolare lei ha criticato il Partito Democratico e il Partito e i socialisti in Regione nel momento in cui hanno deciso di fare di autotassarsi diciamo di devolvere una parte del loro stipendio per i terremotati che sembra una cosa alla quale dire solo grazie qual è la sua posizione da che cosa parte questa critica all'intento della maggioranza noi innanzitutto avremmo gradito un coinvolgimento complessivo di tutto il Consiglio in un momento così drammatico e non posso che naturalmente associarmi alla solidarietà dichiarata prima dalla collega con tutti i terremotati noi avremmo voluto un'azione comunque univoca cioè di fronte a una questione così importante non possiamo nemmeno di fronte a queste situazioni farci vedere un pochino i primi della classe posto che comunque è un'azione assolutamente limitata io ricordavo cioè sicuramente un contributo forse più morale che sostanziale poi alla fine però avremmo voluto un lavoro veramente insieme su questo tema soprattutto noi ci adopereremo per individuare tutti quei fondi che nel bilancio regionale potranno essere dirottati su questa azione di sostegno materiale a tutti i terremotati ci sono tante iniziative anche legislative che in questa fase potranno andare in secondo piano perché non è questa la priorità o almeno alcune di queste non saranno la priorità noi lo sosterremo con forza vorremmo dare più che altro questo contributo poi ognuno di noi farà e darà il contributo che riterrà più opportuno ma questo io credo sia un atto doveroso perché qui non c'è in questa fase bisogno di fare delle proprie azioni un'azione politica perché veramente si entra in una dimensione anche di poco rispetto di chi soffre in questi frangenti dopodiché ognuno nel proprio intimo sa quello che può fare farà il massimo e noi continuiamo a farlo ognuno per le proprie possibilità e le proprie diciamo sensibilità questo assolutamente ricordo che prima e seconda commissione in settimana si riuniranno a Norcia sarà una riunione operativa e sicuramente anche quando l'assemblea legislativa nel suo insieme si riunirà ci sarà all'ordine del giorno questo argomento quindi ne riparleremo anche nelle prossime settimane nelle prossime trasmissioni cambio tema e rimango però sull'attualità perché questa notizia è recentissima convegno a Terni sull'economia circolare siccome Carla Caciari ha preso parte a questo convegno io vorrei che spiegassimo ai telespettatori non è che sia una parola proprio di facilissima comprensione di che cosa avete parlato in questo convegno con molti esponenti politici non solo della regione Sì intanto era una trasferta del gruppo PSE del Comitato delle Regioni quindi erano presenti diversi rappresentanti di altre nazioni di altri di altri stati e quindi è stata un'apertura su un tema importante che è quello relativo a una risoluzione che è stata preparata proprio in serie di Comitato delle Regioni che riguarda un diverso modo di concepire un prodotto non lo chiamo rifiuto cioè parto ancora dall'inizio quindi a cominciare da un packaging diverso fino al pensiero che appunto nel progettare qualunque a partire da un telefonino fino a un cibo l'obiettivo non sia quello di farlo diventare un rifiuto ma di riusarlo il più possibile di farlo rientrare in una nuova economia che è quella appunto di un'economia del recupero quindi riguarderà sicuramente delle scelte politiche importanti rispetto anche alla diciamo alla chiusura del ciclo dei rifiuti quindi la tendenza appunto a rifiuti zero e la possibilità anche di nuovi posti di lavoro nella strutturazione di filiere di recupero di riuso che non siano solo e soltanto locali ma penso a filiere interregionali la regione ha già un accordo per esempio per la filiera del legno con la Toscana e addirittura perché no ha degli standard appunto questo è stato poi l'argomento europei che possano allineare anche sui temi su temi così importanti come quella appunto della gestione dei rifiuti allineare anche le pratiche di diverse nazioni quindi questo è stato il tema sono state portate esperienze già più avanzate delle nostre l'Italia in alcuni campi è invece un esempio che viene già preso in considerazione non è stato fatto a Terni perché a Terni appunto naturalmente l'acciaio e la sua possibilità di essere recuperato è già una realtà la facoltà di ingegneria con sedia Terni appunto industriale sta proprio promuovendo dei corsi di specializzazione anche dei corsi magistrali proprio sulla nuova percezione di progettazione di qualunque diciamo prodotto o uso prodotto di uso quotidiano proprio nella nuova percezione di considerarlo non un rifiuto ma una risorsa sempre De Vincenzi lei non ha preso parte a questo convegno però la questione dei rifiuti la interessa sempre anche come consigliere comunale del capoluogo di regione perché lei è in comune quindi qui gira voce che come discariche siamo messi molto male parliamo purtroppo di quelli che sono rifiuti adesso e che non sono riciclabili sono lì montagne da scalare siamo molto preoccupati per come è stato gestito nel passato tutta la questione rifiuti in Umbria come ancora viene gestita in estrema affanno non ci dimentichiamo le interdittive antimafia che sono state emanate e che ancora non sono state rimosse abbiamo un'autonomia stimata di un paio d'anni ma crediamo che poi tutto questo sia anche come tempo inferiore rispetto al reale sia superiore rispetto al reale su questo tema io devo dire che veramente il PD che ha governato e governa in tanti comuni non ha assolutamente oltre che regione non ha assolutamente fatto una programmazione seria che sia riuscita poi a metterci in condizione di affrontare con serenità questo tema è vero che il tema dei rifiuti è una questione che coinvolge ciascuno di noi è una questione di mentalità per cui nelle case nelle singole case dobbiamo fare sicuramente lo sforzo da differenziata e quant'altro rientrare in questa logica che ricordava Carla del riciclo e dell'economia circolare però è chiaro che se le istituzioni non mettono in condizione poi i cittadini di diventare virtuosi è ovvio che tutto questo salta noi siamo molto preoccupati perché poi il sistema di gestione dei rifiuti locale non è soltanto quello delle discariche in senso stretto ma anche degli impianti di compostaggio e abbiamo ahimè anche dei lasciti delle pregresse amministrazioni io penso a Perugia con l'agriflor che crea una condizione di invivibilità e di insostenibilità oltre che di danno psicologico veramente per le persone che vivono nelle zone limitrofe per naturalmente anche il valore economico delle abitazioni limitrofe quindi all'impianto quindi questo PDA grandissimo puzza consigliere parliamo di questo sostanzialmente ma parliamo anche di un effetto sulla salute fisica e psichica delle persone perché al salsi la mattina o andare a letto la sera magari d'estate e non poter aprire le finestre quando è caldo ci dice la grande difficoltà soprattutto pensiamo agli anziani e ai bambini poi durante il giorno molti si spostano per lavoro il problema poi resta magari per i bambini che stanno nelle scuole in queste zone laddove poi si percepisce ulteriormente ma insomma sono limitrofe a Villa Pitignano parliamo di 6-7 frazioni che è una grossa fetta della popolazione perugina e ci abbiamo un grosso dibattito in comune proprio in questi giorni oltre che anche azioni di natura legale per cui penale adesso a settembre dovrebbe ripartire anche il processo che riguarda proprio Agriforra quindi le questioni sono tante a noi dispiace veramente che si continuino a fare i proclami che molte cose vanno bene abbiamo avuto anche adesso l'acquisto della quota di Gesenu da parte di un altro imprenditore del gruppo Paoletti però ancora oggi non sappiamo come andrà a finire tutta l'interdittiva quindi siamo molto preoccupati siamo molto preoccupati ma anche molto delusi da questa amministrazione che si dice vicino ai cittadini ma poi nella pratica nella sostanza tutto questo non si dà quindi noi continuiamo a vigilare proprio per impegnarci a portare sostegno a tutte le persone che sono coinvolte in questo pensiamo Orvieto pensiamo anche a Bella Danza a Bella Danza per una gestione ultradecennale adesso escono fuori tutta una serie di composti cancerogeni che vanno a infiltrare le falde acquifere quindi di tutto questo dobbiamo avere contezza indagare verificare e d'altra parte c'è stata anche una commissione in regione che ha lavorato e che ha messo in evidenza tutte queste limitazioni volevo inserire un altro paio di argomenti sempre pensando anche a chi ascolta quindi cosa fa la politica per la gente tempo fa il Movimento 5 Stelle ha tentato di introdurre in regione il reddito di cittadinanza c'è stata una ampia discussione questa proposta non è passata però la regione ha fatto passare un'altra cosa il SIA non so quanti in ascolto lo sanno il sostegno per l'inclusione attiva che è una misura rivolta alle famiglie più povere Cacciari sì dunque a dire il vero il SIA è una misura nazionale per la prima volta il governo ha pensato a un piano per le povertà e su questo ha investito con un contributo economico che appunto sarà rilasciato dall'Inps anzi credo che siano già partiti la possibilità di chiedere ai comuni se ci sono naturalmente delle fasce di popolazione sono adulti con bambini che abbiano un'isee minore di 3.000 euro che possono chiedere ai propri comuni di aderire al SIA il SIA si compone di un contratto con la famiglia che comporta sia un erogazione in denaro che è di 80 euro a componente fino a un massimo di 400 euro al mese erogato dall'Inps su presa in carico dei servizi sociali del comune a quali famiglie che abbiano minori e abbiano un'isee minore di 3.000 euro in la stima che ha fatto la giunta anche con un lavoro che abbiamo fatto congiunto in commissione proprio per cercare anche di raccogliere poi dirò meglio risorse varie risorse la stima che diciamo ci è stata riportata di circa 6.600 famiglie che avranno diritto a entrare in questo percorso che lo vorrei ricordare e questo forse è la cosa più nuova non è solo una misura passiva ecco qua e ora ma appunto siccome c'è una presa in carico c'è una parte poi attiva che riguarda l'inserimento lavorativo e che è quello che è finanziato con fondi regionali che diciamo affiancano i 8 milioni che arrivano dal nazionale sul piano appunto della lotta alla povertà con 12 milioni di fondo regionale che serviranno ad aiutare le persone non solo a dire ecco sei in momentanea difficoltà ecco l'erogazione monetaria ma no ci saranno degli strumenti per cercare di introdurli al lavoro e quindi voucher possibilità di formazione inserimenti in azienda e tutto quello che è attivo cioè una politica attiva per permettere alle persone che magari uscite purtroppo dal mondo del lavoro hanno una necessità non tanto anche per la propria veramente come dire il proprio il proprio essere hanno bisogno di rimettersi in piedi e quindi aiutarli a rientrare nel mondo del lavoro perché credo che poi lavorare è lo strumento più dignitoso che ciascuna persona alla quale ambisce e quindi sono due misure insieme che abbiamo che hanno concertato sia anche appunto veramente grazie al lavoro anche del Consiglio regionale la Giunta col Governo e quindi ha messo insieme un totale di quasi 20 milioni all'anno per l'inclusione attiva chiamiamola così e questo permetterà certo di insomma accompagnare in una fase di ripresa leggera ripresa le persone che si sono trovate spiazzate perché anche tante persone diciamo che avevano un lavoro e una normale sono trovate spiazzate davanti a grosse crisi che hanno investito anche i nostri territori Consiglio Vincenzi se vuole può intervenire su questo argomento e comunque c'è una domanda che l'aspetta un'altra sul SIA abbiamo ricordato la collega che si è lavorato insieme sicuramente il problema non è il sostegno to cure ma la finalità deve essere quella di creare lavoro il lavoro è la condizione primaria per dare dignità le persone un padre che può sostenere una famiglia una donna che può in qualche misura magari sola potersi sostentare o con figli magari famiglie divise quindi il primo obiettivo deve essere quello di creare il lavoro noi verificheremo che tutte queste iniziative che in una misura sono state concordate possano arrivare a buon fine nel quadro generale siamo molto preoccupati perché una regione che è chiusa in se stessa trasporti con tutti i problemi che abbiamo dal punto di vista ferroviario aeroporto che ha i limiti che ha non riusciamo a far passare dei treni freccia sulla regione i collegamenti sono limitati pensare a uno sviluppo economico in questi termini lo vediamo molto difficile noi ci auguriamo che la nostra parte cerchiamo di farla ma noi non pensiamo che con il sostegno semplice Tucur ma lo ricordava anche la collega è soltanto una prima misura poi in realtà anche queste misure investiranno un numero di popolazione abbastanza limitato ricordava tra i 3.000 e i 6.000 di Ise quindi comunque il margine della popolazione che rientrerà in queste misure di sostegno sarà sicuramente limitata quindi l'impegno speriamo che sia sostanziale nel creare lavoro questa è la cosa che ci interessa di più e che vediamo più rispondente alla dignità delle persone e delle famiglie e su questo sicuramente staremo non solo a controllare ma a fare la nostra parte Vincenzi c'è una cosa che volevo chiedere perché lei è la persona più indicata c'è una legge che è passata ormai in terza commissione quindi arriverà in aula entrambi siete consiglieri della commissione sanità e servizi sociali Carla Casciari lo ricordo anche assessore al welfare nella passata legislatura quindi poco tempo fa la legge contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale vi vede proprio su due sponde distinte per De Vincenzi è una legge che compromette l'equilibrio sociale antropologico della nostra società quindi vi cito per Casciari invece pone al centro i diritti di tutte le persone e deve essere accompagnata con una rafforzata cultura dell'inclusione abbiamo gli ultimi due minuti a testa sono discorsi grandi se riuscite a fare una sintesi per chiarire le vostre posizioni è abbastanza complicato su questo tema devo dire che intanto questa legge è nata male nel senso che è stata la prima proposta legislativa praticamente di questa legislatura e pensare di fronte al grande numero di problemi che ha questa regione a cominciare dalla denatalità per cui abbiamo un tasso di natalità dell'1,3 e pensare di preoccuparci di un aspetto pur rilevante quale questo delle discriminazioni in senso ducur generale l'abbiamo ritrovato francamente poco adeguato sia alla storia di questa regione ma anche alle aspettative della gente sulle discriminazioni non abbiamo nulla da dire nel senso che cioè su prenderci cura delle discriminazioni avremmo al limite preferito una legge che ricomprendesse le tante discriminazioni che pure avvengono nella vita quotidiana e francamente qui parliamo di discriminazioni di natura sessuale comportamentale sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere questo è un altro aspetto che fa sì che questa norma sia assolutamente disomogenea perché prende in esame da un lato un comportamento sessuale dall'altro l'identità di genere sono due cose completamente diverse che da un lato possono sfociare nell'identità di genere quando si parla di identità di genere su aspetti che sono di natura patologica quindi da questo punto di vista noi crediamo che non sia assolutamente questo il contesto di trattare questi argomenti ma soprattutto pensare di fare una norma ristretta a questo tipo di discriminazione significa in realtà discriminare proprio le persone che già per diciamo costituzione sono uguali a tutti quanti quindi si vuole fare un recinto dentro cui qualcuno è più uguale degli altri e le norme che sono state pensate su questa legge non rispondono tra l'altro nemmeno alle aspettative di queste persone perché alla fine una legge di questo genere si risolverà sostanzialmente nel dare dei soldi a pioggia a delle associazioni per fare una serie di attività e soprattutto quello che noi abbiamo chiesto sin dall'inizio di non entrare nelle scuole con queste tematiche posto che queste tematiche al di là poi di quello che anche concerne la legge sulla buona scuola o su tante altre iniziative però sono tematiche che molto rientrano nella sfera familiare e dell'educazione familiare e su questo noi vorremmo avere sempre diciamo il privilegio delle famiglie a gestire tutta una serie di situazioni per cui siamo assolutamente contrari capiamo alcune situazioni la Costituzione già dice che siamo tutti quanti uguali e quindi c'è tutta una normativa anche all'atere che garantisce le persone rispetto a tutta una serie di discriminazioni non vediamo perché si debba fare una legge ad hoc su questo tema che possa anche coinvolgere aspetti lavorativi e quant'altro che francamente consigliera Casciari invece lei ha salutato l'approvazione di questa legge in tutt'altra maniera beh sì perché riprendendo le parole del Consiglio di Vincenzi credo che appunto le persone sono persone nel rispetto delle persone l'orientamento sessuale che dovrebbe essere culturalmente normale credo che chi diciamo lo steggia sia mio per rispetto alla realtà io ho un bambino piccolo che va alla scuola alla materna per lui è normale che ci siano coppie di diversi sessi non vedo appunto a ragione forse è superfa perché dovrebbe appartenerci nella normalità delle persone così non lo è forse c'è bisogno e ci sarà bisogno di uno strumento rafforzativo in questo senso perché non lo è per le pare opportunità inutile che lo diciamo ci sono ancora l'ho sentito ancora dal consigliere quindi questo veramente è uno strumento ulteriore per rafforzare la cultura dell'uguaglianza e su questo anche per la mia esperienza politica per il mio vivere quotidiano credo che appunto sia uno strumento utile che naturalmente dovrà trovare poi un substrato culturale fertile sul quale crescere essere radicata risposta chiara la ringrazio anche per la sinteticità ringrazio anche il consigliere De Vincenzi e naturalmente i telespettatori che ci hanno seguito appuntamento alla settimana prossima di Vincenzi Grazie a tutti